Buongiorno a tutti Dove stiamo andando? Ah non so, a casa tua penso Devo prendere la roba Così sembra tipo cose da gangster Se non ti piace la tua vita cambiala Alzati e cammina e fatti strada Potremmo andare peggio Qui ti ancora grido E il quartiere in fondo un po' ti cambia Io ne sono uscito Arrivati a Milano Siamo arrivati a Milano Bene Non sbaglio Adesso prendiamo la metro rossa E andiamo in Duomo Ricordiamoci poi il nome di questo post Ah si si sarebbe un bel problema Prima ce la fa il biglietto Sei minuti Sblit sopra sblit Qualcosa sta arrivando Sta arrivando il vento Spendio 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 Guarda quanta fila c'è da crack Cosa ne pensi? Penso che devo andare a mangiare da lui No, quello è beef Se c'è beef Se non crackiamo non si ha nessuno Margherita 23 euro Dimmi come devo stare Ragazzi il Duomo non ci ha soddisfatto Quindi se ne torniamo nelle macchie Saluti dalla Lombardia Mascherina 7TPP4 Ragazzi per questo video è tutto Vi salutiamo Torniamo nelle marche E' importantissimo